ciao bimbi sapete perché non stiamo andando a scuola questi giorni per colpa sua il coronavirus questo mostro molto astuto si nasconde in uno starnuto tiene in testa una corona se ti tocca ti imprigiona questo virus fa paura perché nessuno conosce una cura quindi spero vivamente che gli venga un accidente che si becchi l'influenza e finisca l'emergenza e se ognuno di noi alle regole si attiene vedrete che andrà tutto bene ora tocca a te fai un disegno disegna quello che più ti piace della scuola e dei tuoi amici e intitola così io resto a casa un bacio affettuoso dalle maestre ciao